dai da lì bravo stai attento in fondo alla discesa perché è brutta è la discesa di sotto è brutta e che cacchio stai attento in fondo alla discesa di sotto stai attento in fondo alla discesa di sotto fai la quercia stai attento è abbastanza pulita adesso stai attento in fondo alla discesa di sotto è riuscito anche a uscire senza fermarsi è riuscito a uscire senza fermarsi come cacchio la fa non ho capito stai attento in fondo alla discesa di sotto stai attento in fondo alla discesa di sotto stai attento in fondo alla discesa di sotto stai attento a rumore stai attento a destra stai attento in fondo alla discesa di sotto io faccio l'attacco qua sotto che ce la faccio dopo qua sbaglio tutte le volte io sbaglio sempre quando attacco qua ma perché non carichi, devi stare basso molto basso e tenere aperto non la tengo giù e quindi dopo mi frega qua sotto la quercia qua è ben salvata tagliagli via quelle del cavolo bravo bravo tagli tagli qua devi solo sederti quando sei così non puoi fare niente quasi a zero cazzo è venuto su che questo terreno no poi l'ho sgarlato anche io oltretutto ho sgarlato un po' perché effettivamente sono arrivato sotto male basta non ce l'ho più fatta prima si è dutto e basta prima si è dutto e basta via tutta casa 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 C'è un po' che c'è un po' che c'è?